Sacca porta biancheria. L'accetto con la sua apertura per chiuderla e legarla. All'interno troviamo un pezzo di cotone cucito per iscrivere il proprio nome. Una maglia in tessuto di nylon, finiture ottimali, cucite ultra piatte, di grande capienza per mettervi facilmente la biancheria sporca. Una volta legata si può portare in lavanderia insieme agli altri e riconoscerete che è vostra dal nome iscritto all'interno, nome, codice o sigla, quello che volete. La capienza è notevole perché è espandibile. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.